E' difficile distinguere Giorgia Meloni persona da Giorgia Meloni segretaria del partito che ha vinto, stravinto le elezioni e infine da Giorgia Meloni premier in pectore. Ecco non voglio essere blasfemo parlando di Trinità e capisco che il ruolo condiziona la persona, tuttavia non si può sostenere tutto e contemporaneamente il contrario di tutto a seconda del ruolo che si ricopre in quel momento. In un video da me postato ormai tre settimane fa che avevo intitolato Giorgia Meloni che delusione. Un video che aveva anche avuto un certo apprezzamento da parte degli ascoltatori dal momento che fra YouTube e Facebook ha avuto più di 57 mila visualizzazioni. Io comunque avevo già evidenziato diciamo come la potrei dire tipologia di comunicazione alla quale stiamo assistendo in questi giorni da parte di Giorgia Meloni premier in pectore e sia in totale dissonanza con un intervento che la leader di Fratelli d'Italia aveva fatto in Parlamento nel 2014. Un intervento estremamente critico nei confronti delle sanzioni decise dagli Stati Uniti contro la Russia all'indomani della dichiarazione di indipendenza da parte della Crimea e della contemporanea richiesta della penisola di tornare a far parte della federazione russa. Ho invece apprezzato la fermezza che la Meloni ha avuto nell'imporre le due candidature di coalizione alla presidenza di Camera e Senato. Tuttavia oggi non posso esimermi dal tornare a criticare la Meloni per le parole utilizzate nei confronti dell'Unione Europea e della Nato. Non sono parole da statista, sono espressioni che che può al massimo proferire un suddito. E allora, certo, sappiamo tutti com'è messa l'Italia, ma possiamo evitare di manifestare questa sudditanza. Non dico di opporsi, dico soltanto di evitare di manifestare questa sudditanza. È veramente deprimente per un italiano vedere che il proprio Premier, cioè, va bene, non è ancora Premier, ma insomma avete capito, ecco. Guardate, lo dico proprio, a Giorgia Meloni non dovrebbe essere più permesso, consentito, di utilizzare un termine come patriota. Un patriota non può sottomettersi. Un patriota è fiero della propria indipendenza e rimarca la propria sovranità, la sovranità del proprio popolo. Capisco che chi in epoca recente ha rivendicato la nostra sovranità, e naturalmente mi riferisco precisamente a Craxi ed Andreotti, poi hanno dovuto subire delle angherie, ma loro si sono dimostrati statisti, ossia hanno stipulato accordi con tutti, ma hanno anche sostenuto coi fatti nei confronti di una superpotenza nostra alleata che sul nostro territorio comandiamo noi. Veramente io non riesco più a sopportare quelli che dicono ma se andiamo fuori dall'Europa come facciamo? Ma come, come facciamo? Ma siamo italiani, abbiamo per caso bisogno della badante Europa che poi è una badante che ci frega i soldi. Ma poi scusate, prima della nostra entrata nell'Unione Europea eravamo persi, non so, eravamo degli sbandati. Io direi l'esatto contrario. È giunta l'ora di finirla di essere lo zimbello dell'Europa. E in questo caso uso il termine Europa proprio nel suo proprio significato, non nel significato di Unione Europea. E ora capirete anche il perché. Come forse già sapete, oggi la primo ministro inglese, Liz Truss, ha rassegnato le dimissioni. Il suo è stato un governo che è durato davvero poco, in pratica un mese e mezzo. Un governo che effettivamente non passerà alla storia se non appunto per la sua brevità. Ed è innegabile che la governabilità del Regno Unito esce un po' con le ossa rotte. Dapprima la fine anticipata del governo Johnson e ora questa fine fulminea, diciamo, del governo Truss. Ebbene, il giornale inglese di Economist mette in copertina Liz Truss, vestita da un guerriero romano, con in mano anziché la lancia, una forchetta con gli spaghetti e la scritta Benvenuti in Britali. Ora, ovviamente il termine Britali è la contrazione fra Gran Bretagna e Italy, insomma. Ebbene, i nostri giornali riportano questa copertina e la raccontano come se fosse uno sfottone i confronti della Gran Bretagna. E noi, cari giornalisti italiani, agendo così stanno prendendo per i fondelli l'Italia, non la Gran Bretagna. Intanto, guardate, l'insopportabile stereotipo con il quale veniamo descritti, i soliti spaghetti. Già solo quello, insomma, basterebbe solo quello per farci sentire. Ma è chiaro che in quel modo l'Italia viene praticamente associata a una Repubblica delle Banane. Quindi, insomma, i nostri politici, ma anche i nostri media, avrebbero dovuto stigmatizzare quella copertina dell'Economist e quindi protestare contro quei supponenti britannici. Ah no, giusto. È vero. Perché sapete di chi è, di Economist? Ormai da ben sette anni. È della Exor, ossia famiglia Agnelli e il Can. Allora, grazie a loro per continuare a sporcare l'immagine dell'Italia, anzi per infangare l'immagine dell'Italia. Ebbene, tornando alla nostra Giorgia Meloni, concluderei questo video ribadendo che da un governo di centrodestra mi attenderei anche una maggiore attenzione nel difendere e onorare l'italianità come un indiscutibile valore. Non voglio, come spesso accade, ricordare che nessun altro paese al mondo può vantarsi di aver dato i Natali a Leonardo, a Michelangelo, a Dante, ad una quantità innumerevoli di geni universali. Ripeto, nessun altro paese al mondo. Non c'è confronto. Con nessuno. Come l'Italia. Nessuno.